ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video per quanto riguarda gli assaggi oggi assaggeremo tre piccoli snack australiani che ho trovato solo qui in Australia al supermercato non so se si trovino anche da altre parti del mondo uno mi pare di sì di averlo già visto comunque adesso ve li faccio vedere e li assaggiamo uno alla volta in modo tale che andiamo avanti con il video allora primissimo snack è questo qui boost questo qui devo mettere penso di averlo visto in un video di simone cioè questi qui sono proprio mini size adesso vado ad aprirlo per voi così vi faccio anche vedere un po sciolto perché qui fa caldo ok vedete questo cilindro di cioccolato andiamo all'assaggio questo è molto buono faccio vedere l'interno è un po di penso caramello come ripieno e l'interno è un po croccante nonostante sia comunque cioccolatoso molto buono se lo trovate prendetelo perché sa molto sembra un po al Mars qualcosa del genere adesso finisco questo e passiamo agli altri due ok secondo snack questo qui fries turkish delight che questo qui è un mini snack giusto per quando non ci non ci vedete più dalla fame adesso vado ad aprirlo anche questo qui è ricoperto di cioccolato eccolo qua questo qui un specie di piccolo mattoncino adesso andiamo ad assaggiarlo molto buono vi faccio vedere anche l'interno come vedete dentro c'è una sorta di gelatina penso che sappia di fragola o di ciliegia una cosa un sapore un po strano in realtà come vedete appunto una gelatina ricoperta di cioccolato questo comunque è molto buono per fare un velocissimo spuntino anche leggero perché alla fine sono piccolissimi ma va piuttosto bene adesso finisco questo morso e ci vediamo al terzo e ultimo assaggio terzo e ultimo assaggio questo piccolo snack qui che è il caramello koala anche qui presumo che sia cioccolato con all'interno del caramello quindi adesso apriamo questo qui è molto carino se vedete c'è appunto la koala con tutti questi bei dettagli sopra anche questo qui ricoperto di cioccolato adesso andiamo ad assaggiare gli mangio direttamente la testa anche questo è molto buono in realtà però non si sente tantissimo il gusto del caramello non ce n'è neanche tantissimo è tutto molto cioccolatoso e poco caramelloso in ogni caso non è male che carino se venite qui in Australia appunto mangiarvi un koala di cioccolato detto questo io vi lascio questo video appunto è finito in descrizione trovate come sempre i link a tutti i miei social quindi potete stalkerarvi in qualsiasi modo se volete potete lasciare un like potete condividere il video e potete anche lasciarmi un commento se il video vi è piaciuto se non vi è piaciuto che cosa vorreste vedere che cosa vorreste vedere nei prossimi assaggi oppure se avete qualche domanda cercherò di rispondervi o con un commento oppure raccolgo quelle che vengono fatte più frequentemente e vi rispondo con un video detto questo io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao